E ci troviamo con Nicola Zucchi, uno dei DJ qui a Milano Marittima. Ciao Nicola! Ciao, come va? Tutto bene? Benissimo! Bene! Una domanda semplicissima, le tendenze di quest'anno sulla musica? Ma ce ne sono tante, diciamo che sento tornare molto di più le sonorità un po' più melodiche degli anni passati rispetto a quelle cose che andavano negli ultimi anni un po' più dure, un po' più tecno, quindi vedremo un po'. Aspettiamo di capire l'estate cosa ci riserva con le produzioni che usciranno.